E allora amiche mie, ecco qua i miei cornetti salati che sono usciti buonissimi io ne ho aperto uno, guardate la sofficità questi si aprono si fa una bella merenda ci mettiamo un po' di formaggio un po' di salame e me lo vado a pappare buon, buon, buon mi raccomando io vi dico di avete visto la ricetta mia? fate perché sono morbidosi, morbidosi una bella merenda per i bambini mi raccomando commentate che intanto io me ne faccio due e me li pappo ok? ciao amiche mie, buon tà!